Grazie per supportare il nostro canale. 40. L'avventura crede si tratti degli anni compiuti dal torinese e fa gli auguri Luca. Argentero divertito risponde grazie Super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso. La conduttrice 56enne fa subito dell'autoironia, ha a Tiotto 3 anni. Magari lo facessero a me con tante faccine che ridono e i follower si divertono. Ma tra tanti tweet arriva anche una frecciatina di Mara Venier che riferendosi all'avventura commenta così, non avrà digerito la pizza. Punto. Punto. Un commento che assume senso se riferito alle recenti dichiarazioni di Simona, Super Simo interpellata sulla preferenza tra uno show della D'Urso e uno della Venier aveva risposto preferisco mangiare una pizza. Una risposta che evidentemente non era piaciuta a Mara. Tra le due, infatti, da anni non corre buon sangue. Per un lungo periodo sono state anche parenti vista la lunga relazione di Simona con Gerò Carraro. Figlio del marito della Venier. Oggi però sembrano aver preso tutti strade diverse. Grazie. 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 Grazie.